Ciao a tutti gli amanti del gossip e delle notizie scottanti. Benvenuti nel nostro canale YouTube, Gossip e Newsita. Oggi abbiamo un aggiornamento davvero avvincente riguardante una delle celebrità più amate d'Italia, Federica Pellegrini. State per scoprire una complicazione sorprendente nella sua vita che sta facendo scalpore. Sfortunatamente, sembra che suo figlio, il dolce e adorabile Andrea, stia affrontando una misteriosa malattia che ha colpito tutti di sorpresa. Le sue condizioni sono delicate e richiedono cure costanti. Questa notizia ha sconvolto noi e tutti coloro che seguono con affetto la vita di Federica e si sono affezionati al suo piccolo guerriero. Vogliamo che Federica e Andrea sentano il nostro affetto e sostegno, quindi vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale, Gossip e Newsita, lasciare un bel mi piace a questo video e commentare con messaggi di incoraggiamento e affetto per la famiglia Pellegrini. Il vostro supporto è fondamentale. Siete pronti ad approfondire questa storia commovente con noi? Allora non perdete tempo, iscrivetevi ora al nostro canale Gossip e Newsita per non perdere nessuna delle nostre future pubblicazioni. Vi promettiamo pettegolezzi avvincenti e notizie esclusive. Vi ringraziamo di cuore per il vostro costante supporto e vi invitiamo a lasciare i vostri commenti, mi piace e iscrizioni, sia all'inizio che alla fine del video. Siete una community fantastica e senza di voi non saremmo qui. Grazie ancora a tutti voi. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutti i dettagli di questa complicata situazione e per scoprire i pettegolezzi più succulenti del momento. Non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti. Grazie ancora per essere qui con noi oggi su Gossip e Newsita. Ci vediamo nel prossimo video con ulteriori scoop e informazioni imperdibili. Iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, commentate e ringraziamo ancora una volta tutti voi meravigliosi spettatori. Alla prossima!